Musica Grazie a tutti. Dalle 18 alle 19.30 UTC su 1584 KHz. Ogni giorni dalle 1 alle 2.30 UTC su 1584 KHz. Ed ogni sabato dalle 13 alle 14 UTC su 6070 KHz. Per la programmazione completa evitate il nostro sito www.radio.webs.com Ricordate inoltre la nostra cannella postale elettronica www.radio.com Anche questa settimana a tutti benvenuti all'ascolto delle trasmissioni di IBC, Italian Broadcasting Corporation. Quest'oggi come sempre le consuete rubriche ma anche la terza puntata della storia delle telecomunicazioni. Vi ricordo l'appuntamento che vi darà compagnia per ben 12 puntate. Il momento a Marcord sarà con Agostino Pagliari.